Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di martedì 7 febbraio. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa vasta e intensa perturbazione a portare fenomeni di instabilità soprattutto al centro nord. Nel dettaglio il mattino sulla nostra regione le condizioni meteorologiche risulteranno instabili con possibilità di piogge e rovesci in particolar modo lungo la fascia orientale e nevicate al di sopra dei 1000-1500 metri di quota, mentre nelle zone interne dell'Aquilano avremo cielo prevalentemente coperto ma con assenza di fenomeni. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche vedranno un generale miglioramento, tuttavia i cieli continueranno a risultare coperti su gran parte del territorio e avremo ancora possibilità di deboli piogge nelle zone pedemontane del versante orientale. Le temperature inoltre risulteranno in generale diminuzione. A partire dalla serata le condizioni meteorologiche miglioreranno su tutto il territorio con i cieli che risulteranno nuvolosi o poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS